Musica Benvenuti al TG10, c'è la pagina politica oggi in apertura del telegiornale e ci occupiamo in particolar modo della spaccatura che si è registrata nel Partito Democratico di Gela è nato il gruppo Adesso Gela, ne fanno parte Giuseppe Ventura, nominato capogruppo Antonino Biondo e Cristian Malluzzo Una spaccatura vera e propria, altro che Partito Democratico Unito L'avvertura si è registrata ieri sera in Consiglio Comunale Nasce il gruppo Adesso Gela, ne fanno parte Giuseppe Ventura, nominato capogruppo Antonino Biondo e Cristian Malluzzo I tre consiglieri non accettano la definizione che gli è stata data di ribelli Noi non siamo ribelli ma siamo semplicemente coerenti con quella che è stata la scelta della popolazione La popolazione ha chiamato a quello che è il Partito Democratico, tutto il centro-sinistra di fare opposizione a questo governo e noi continueremo a farlo in maniera costruttiva ripartendo dal basso e dialogando nuovamente con quelli che sono i comitati di quartiere con quelli che sono i cittadini, con le istituzioni, con le associazioni che hanno perso ogni tipo di riferimento nella politica Noi da questo dobbiamo ripartire per costruire anche una grande coalizione di centrosinistra all'interno del Consiglio Comunale Finalmente escono allo scoperto, ha detto ieri in aula il vice capogruppo del PD Carmelo Orlando Adesso si capisce chi sta con i poteri forti Ventura e Biondo sono fuori dal partito Da che pulpito viene la predica? Intanto ci dicesse quali sono questi poteri forti Io di forte che ho, l'unica cosa forte che ho è la passione nei confronti della politica e quindi è strano che mi vengano a me a parlare di poteri forti quando ho da sempre manifestato la mia intenzione, la mia volontà insieme ad altri, insieme al Consigliere Biondo, insieme al Consigliere Mallusso della nettofosizione rispetto all'amministrazione comunale quindi quali sarebbero questi poteri forti Poi Orlando dimentica che proprio lui ha sostenuto 5 anni fa contro il PD un'altra lista Il Consigliere Orlando dovrebbe ricordarsi che lui, il fratello e tutti quanti erano candidati nella lista contro il PD quando allora era candidato sindaco speciale quindi è strano che oggi proprio da lui mi arrivano queste indicazioni In realtà la segreteria nazionale e quella regionale non la pensano così Noi siamo del PD, volevamo un PD unito Questi vertici locali non lo permettono Voi dovete solo pensare che il gruppo consigliere del PD che era di 7 componenti e che poteva diventare 10 con l'ingresso di Casano, Pane Bianco e Mallusso che ne hanno fatto richiesta, poteva diventare da 10 consigliere comunali oggi si ritrova con 5 consigliere comunali Noi non contestiamo l'attuale PD perché riteniamo di essere l'unico PD vero di questa città Noi non siamo una costola del Partito Democratico Noi siamo le viscere del Partito Democratico che reclamano giustizia e che reclamano la legittimità di essere rappresentati come Partito Democratico in questa città Lo abbiamo detto a tutti i livelli, il regionale, il livello nazionale e dai vertici regionali, dai vertici nazionali abbiamo avuto, voglio dire, non c'è nessuna questione particolare anzi abbiamo avuto spazio libero per poter fare politica vera su questo territorio Io non ho padri, non ho padrini, non ho illustri genitori sono figlio di un operaio della raffineria come diceva qualche predecessore ma ritengo che noi abbiamo il diritto di fare crescere questa città assumendoci le responsabilità noi personalmente non col telecomando appoggiare messinese e siciliano una volta sì e una volta no io ho sempre detto no io intendo responsabilmente governare questa città e governarlo con un nostro programma politico e adesso parliamo della tavica vicenda dei lavori ancora non partiti al porto rifugio di Gela sbottano i rappresentanti del comitato siamo tenuti all'oscuro di quanto accade hanno riferito Sono infuriati e ci limitiamo solo a questo aggettivo i componenti del comitato del porto tra Golfo di Gela anche ieri sera in consiglio comunale dove era presente una delegazione non sono state date rassicurazioni in merito ai lavori che interesseranno la struttura portuale nessuna notizia certa per lo sblocco dei finanziamenti così come deciso nella riunione del 28 giugno scorso a Palermo nulla di niente Quello che è emerso ieri sera non si è capito poi molto anche perché il sindaco è arrivato un po' tardi ieri sera non abbiamo capito nulla e come non abbiamo ancora capito nulla oggi perché in realtà non ci stanno tenendo molto informati sui fatti anzi vedo che c'è proprio un certo velo di oscurità per non far capire quello che stanno facendo in realtà il gruppo di lavoro non è più informato non è più invitato ai tavoli né tecnici nemmeno le riunioni che ci saranno che ci dovrebbero essere oggi e non sappiamo quando a Palermo non stiamo capendo neppure il motivo per cui il gruppo di lavoro non è più informato non viene più aggiornato e quindi tenuto quasi all'oscuro direi forse c'è qualcosa che non quadra fare queste cose all'oscuro non li capiamo vogliamo capire l'avvertenza Porto di Gela continua e sono previste azioni eclatanti in una situazione del genere bisogna proprio farsi sentire e spero che ci faremo sentire spero che non ci sia bisogno di farci sentire che quindi oggi firmino come è stato già detto prima anche dall'onorevole Arancio che oggi dovevano firmare il protocollo d'indesa a Palermo spero che sia firmato però ripeto non capisco come mai tutta questa oscurità in questa firma doveva essere una cosa alla luce del sole quindi con tanta di pubblicità anche direi perché è una cosa abbastanza interessante quindi non capisco come mai tutto questo questo diciamo celare questa firma e ora occupiamoci della riordino sanitario in Sicilia questa sera a miscemi comizio del sindaco Francesco Larosa contro la paventata chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia a base d'occo ieri missione a Palermo sono stati ricevuti dal governatore della Sicilia Rosario Crocetta e dall'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi ai quali hanno esternato l'ansia e il clima di forte preoccupazione che l'annunciata chiusura di 150 unità operative e 14 pronto soccorso di ospedali dell'isola ha determinato nelle popolazioni per essersi viste calpestare il diritto alla salute e alla vita loro sono i sindaci di Miscemi Francesco Larosa, Di Mazzarino, Vincenzo Marino Di Leonforte, Francesco Sinatra e gli assessori Antonello Scilè di Militello Val di Catania e Francesco Salinitro di Gela durante l'incontro il presidente della regione e l'assessore alla sanità hanno categoricamente smentito che sia stato approvato dal governo regionale un piano di dettaglio sulla rete ospedalera e che si è trattato soltanto della diffusione di uno schema dello stesso Io ho indetto un pubblico comizio stasera con la partecipazione allargata a tutte le forze politiche perché la sanità non ha un colore non è di destra, non è di centro non è nemmeno collina quindi ho invitato a tutti ad essere sul palco a dire ognuno la propria perché bisogna adesso creare le barricate perché se no il pronto soccorso viene meno questo è quello che stiamo portando avanti l'incontro comunque è stato chiarificatore nel senso che l'assessore continua a dire che è una tempesta in un bicchiere d'acqua però piovono interrazioni a livello della nostra assemblea il presidente della sesta commissione dice che non sa nulla e vuole vedere i documenti al senato hanno presentato una mozione per sapere e conoscere alla loro onzin la stessa cosa hanno fatto alla camera presentando un'interrogazione sempre al ministro Laurentini se significa essere una tempesta in un bicchiere d'acqua che Dio ci scansa speriamo che non piova il sindaco di Niscemi ha sospeso al momento il sitino all'ospedale ma senza abbassare la guardia io ho sospeso perché il presidente ci ha chiesto 15 giorni per poter discutere con la maggioranza di governo e poi con i manager vuol dire che quel documento c'era e continua ad esistere se no non c'era bisogno nemmeno di andarlo a discutere a meno che non hanno intenzione di fare una grigliata e parlare di altro Mercoledì 12 ottobre prossimo è l'ultimo giorno utile per poter presentare all'ufficio di protocollo generale del comune di Gela l'istanza per ottenere l'abbonamento o il contributo per il trasporto scolastico nel primo caso la domanda per accedere al servizio gratuito va presentata dalle famiglie degli alunni delle scuole primarie e secondarie residenti a Femmina Morta Roccazelle e Borgo Manfria termini aperti anche per i nuclei familiari degli studenti che si recano in un comune diverso da Gela per frequentare le scuole secondarie di secondo grado da domani al 25 settembre si terrà Match It Now la settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche l'evento rientra nella cornice della giornata mondiale del donatore di midollo osseo che sarà celebrata domani in tutto il mondo anche Gela scende in piazza a sabato 24 settembre in Viale Corti Maggiore a Macchitella in collaborazione con la Croce Rossa i VIP Clown di Galtanissetta e con il patrocinio del Comune i volontari di Admo Gela presieduta da Giacomo Giurato e Adoces Sicilia Ollus presieduta da Carmela Calleri accoglieranno tutti coloro che vorranno ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e di cellule staminali emopoietiche l'appuntamento lo ricordiamo è nella zona Muretti di Macchitella Continua e incessante e distancabile l'azione di contrasto alla paventata ipotesi di realizzazione del parco eolico offshore ieri è stata depositata verso la Commissione dell'Unione Europea un'interrogazione richiesta da Maria Ferrera e da Giovanni Giudice del Comitato Europeo di Gela e condivisa dall'europarlamentare Ignazio Corrao che mira a conoscere le risultanze emerse dall'eventuale chiusura delle indagini della EUPILOT da essa stessa avviata qualora dice il Comitato l'indagine fosse ancora in corso si vuole conoscere lo stato dell'arte e se l'autorizzazione per la realizzazione della centrale eolico offshore nel Golfo di Gela è provvista delle relative autorizzazioni della direttiva Habitat noi continuano Ferrera e Iudice sappiamo che è provvista ma è per evidenziare che è del tutto inattendibile questa mattina inoltre è stata presentata in formato digitale una petizione come da suggerimento del Presidente della Commissione Agricoltura ed Ambiente Giovanni Ravia per solicitare ulteriori iniziative da parte dell'Unione Europea oltre alla EUPILOT già avviata che è l'anticamera della messa in infrazione per avere disatteso la direttiva Habitat e della quale si aspettano a giorni le risultanze delle indagini avviate dalla stessa Commissione la petizione è stata avviata in rappresentanza del coordinamento NOPEOS che è costituito dai comuni di Gela Butera Licata Palma di Montechiaro e Agrigento dall'ex provincia di Calzani 7 Agrigento e dai comitati NOPEOS di Gela Butera e Licata intanto a fine mese la consulta è stata chiamata a dirimere il conflitto di competenze esorto tra il Tar del Lazio e il Tar Sicilia su cui è chiamato ad entrare nel merito del ricorso avanzato dal coordinamento mentre tutto ciò avviene chiude la nota ci avviciniamo a grandi passi verso i tre anni della concessione dell'autorizzazione finale che costringerebbe la proponente a riniziare l'iter per riavere la via la valutazione di impatto ambientale che in questo modo verrebbe persa la città di Gela è pronta a sostenere la propria concittadina Monica Contraffatto alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro per domani dalle 16.50 l'amministrazione comunale ha predisposto un maxischermo in piazza San Francesco per dare l'opportunità a più gente possibile di seguire la gara della centometrista l'iniziativa degli assessori ai servizi sociali di Gia Bela e allo sport Eugenio Catania è stata voluta dal presidente dell'associazione Progetto H Pino Valenti e dal direttore sportivo del club nautico Ennio Greco Fai la cosa giusta Mantieni il decoro urbano della nostra città Oggi venerdì alle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile Cosa conferire? Avanzi di cibo Piccoli ossi Scarti di cucina di frutta e di verdura Formaggi e salumi Avanzi di pane Alimenti avariati e scaduti Fonde di caffè Filtri di tè e camomilla Sfalci Piccole potature Fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso Pezzetti di legno Paglia Segatura Ceneri spente di camini Tovaglioli di carta unti Carta assorbente usata Escrementi Piume Peli E lettiere Di piccoli animali domestici L'organico deve essere depositato all'interno del sacchetto compostabile Dalle 22 alle 5 Anche nei giorni di domenica Martedì E giovedì Un ambiente pulito e sano Basta un piccolo gesto